Nicola Fiore, dalla tua esperienza, dal tuo amore per questi colori, per questa maglia, riparte di nuovo la Vastese per un progetto che l'anno scorso nel finale è stato deludente ma che nella prima parte ha entusiasmato una piazza che conosci perfettamente. Sì, purtroppo sono due anni che facciamo un grande girone d'andata, nel girone di ritorno c'è un calo al quale è difficile dare una spiegazione, probabilmente ci sono tanti motivi, però niente, sono rimasto qui e io e tutta la squadra penso che siamo motivati al punto giusto per fare una stagione importante e cercare di regalare delle soddisfazioni ai nostri tifosi. A questo punto, quest'anno, l'obiettivo playoff dovrebbe essere quello di partenza? Sì, è chiaro che siamo a luglio e le squadre verranno alessite in maniera definitiva ad agosto, però penso che siamo una buona squadra e quindi dobbiamo porci l'obiettivo dei playoff e è chiaro che questo è un campionato difficile, quindi è importante partire con l'approccio giusto. Adesso andremo in ritiro, abbiamo tutto il tempo per prepararci. Posso chiederti che cosa ad un certo punto non ha più funzionato l'anno scorso, che prima funzionava a meraviglia? Purtroppo io sono il primo a non avere una spiegazione razionale. È chiaro che probabilmente c'è stato un calo fisico, poi è mancato un po' di esperienza perché il giornale di ritorno in questo campionato le squadre si rinforzano e forse ci è mancato qualcosa, eravamo giovani e quindi perdendo un po' di partita abbiamo sentito anche la pressione perché comunque Vasto è una piazza che pretende che la squadra faccia bene e quindi c'è stato un calo da parte nostra, però penso che sono esperienze che ci portiamo e che ci permetterà probabilmente quest'anno di fare meglio. La sintesi della campagna abbonamenti che vediamo alle tue spalle ha il tuo volto con indosso la maglia della Vastese e con la scritta abboniamoci con la C in rosso. È l'obiettivo? Diciamo che è normale che Vasto come piazza giustamente ambisca a tornare nei professionisti. Io sono il primo che quando sono tornato due anni fa il mio obiettivo è quello di tornare in C e farlo con la maglia della Vastese. Però allo stesso tempo, ripeto, è un campionato difficile e ci sono tante componenti che devono andare per il verso giusto però da parte nostra, di tutta la società, del mister di noi giocatori c'è l'intenzione di fare bene.